Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il paurino nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di fortnite ogni tuo futuro acquisto su fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Hai visto la mia differenza quando gioca un gioco multiplayer e quando gioca un gioco single player da così a così com'è che erano i sofficini e le patatine Ah vabbè era una marmani male questo insomma Ah vabbè Ma che cazzo Che paura Ma dov'era? Era sopra il tetto, non l'avevo visto Non l'avevo visto No l'avevo visto Oh No l'avevo visto No l'avevo visto Grazie a tutti. 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 Oh no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.